Siamo in diretto ufficialmente con Valentin, ti chiami Valentin, non Valentino? Valentin, il mio nome è vero, è Valentin, non è Valentino. Sono sconvolto. Scusami. Tranquillo, tranquillo. Devo cambiare titolo alla live, ho penito. No, tranquillo, tranquillo, è tutto ok. No, comunque... Non ho capito, avvisami di queste cose. Comunque, ciao! Ciao, piacere. Valentino, ciao a tu. Gli amici mi chiamano Valentino, quindi vengo chiamato sempre Valentino, però il mio nome è vero, è Valentin. Ciao a tutti ragazzi, buonasera. Sono contento di essere in questa live. Io sono contento che tu sia qui. No, no, piacere mio. Credo che ci sia qualcuno che ti conosce qui, sai per caso chi sia questa persona che ti chiama Valen? Ah, sì, sì. È il ragazzo, cioè il, voglio dire il, come si chiama, il fratello della mia ragazza. Oh, abbiamo un etero, non mi capita spesso di ospitare gente del genere. Cosa si prova ad essere etero? Come? Cosa si prova ad essere etero? Ma guarda, normale, nel senso, penso sia una cosa normale. Questa non era la parola giusta da usare. No, nel senso, dico, non è... No, nel senso, capito, non... Non ti agitare, va tutto bene. Era solo per la comicità della coincidenza, tranquillo, va tutto bene. Perfetto, andiamo avanti. Non succede niente. Allora, questo ragazzo ha lavorato... Di là. Ha lavorato alla Industrial Light & Magic, quella di George Lucas. Quella che all'inizio possedeva la Pixar. quella che si è occupata degli effetti speciali e visivi di Jurassic Park, di Star Wars, di... Beh, praticamente qualsiasi cosa. Ha fatto anche l'ITR quest'anno. Hanno fatto di tutto. E... E... Mica si è fermato sto ragazzo, perché noi... Cioè, io vi ho tratti con la scusa dell'Industria Light & Magic, ma in realtà, sto ragazzo sta lavorando tuttora ai classici... Ai remake dei classici Disney. Sì. Praticamente sì. Quindi, spiegaci, che vita hai fatto? Cosa è successo? Allora, vi spiego. Vi spiego un pochino quella che è stata la mia storia, sostanzialmente. Allora, quello che è successo è che io avevo un sogno fin da quando ero piccolino. Quello di lavorare nel mondo del cinema e realizzare effetti visivi, quindi effetti speciali. Quindi diciamo che all'età di 14 anni mi era venuta questa brillante idea di fare questo mestiere. E quando tornavo da scuola, ogni giorno, diciamo, stavo davanti al computer per cercare di capire come funzionasse questo mondo e studiare, ok, tutti i programmi che ci sono. E diciamo che sono stata sempre una persona che non ha mai seguito, diciamo, il solito pat della vita. Quindi vai a scuola, fai l'università, laureati, eccetera, eccetera. Io avevo già l'idea in mente chiara di cosa volevo fare fin da quando ero piccolo. Anche perché io ho una vita che sono davanti al computer. E niente, praticamente tornavo da scuola, lavoravo al computer, i miei progettini, facevo dei tutorial, cioè in senso seguivo dei tutorial e cercavo di capire come funzionasse questo mondo. Ed ero molto appassionato. Ed è successo che dopo la scuola, quindi dopo il liceo, ho fatto un master di sei mesi in una scuola che insegnasse appunto questo mestiere di grafica 3D. E dopo questi sei mesi, diciamo, ho continuato quello che era il mio percorso di studi, perché comunque non mi bastavano questi sei mesi e sono stato un altro anno da solo a casa come autodidatta. Ed è stato molto complicato perché, sai, comunque la gente è abituata a vedere quella persona nelle università a seguire il solito pat. E quindi la gente mi chiedeva e mi diceva, Valentino, ma tu cosa vuoi fare? Quali sono i tuoi piani futuri? Perché c'è una cosa da dire che non dicevo mai i miei sogni. Cioè io da quando avevo 14 anni fino a che non ho iniziato effettivamente a lavorare nelle aziende non ho mai detto esplicitamente i miei sogni, ecco. E quindi praticamente niente. È successo che dopo un anno circa dal master che avevo fatto, quindi avevo 21 anni, ho iniziato ad applicare in tutte le aziende di casa di produzione che riguardavano sia videogiochi che film, perché poi più o meno il 3D si applica, le stesse metodologie, tra virgolette, si applicano sia nei videogiochi e sia per quanto riguarda i film. Ho iniziato a 21 anni da solo, quindi ho preso quella che era la mia famosa valigia di cartone, e sono partito all'estero, sono stato a Liverpool per circa dieci mesi ed ero completamente da solo, non sapevo l'inglese e non conoscevo nessuno, quindi è stato molto molto difficile all'inizio. Il tempo era brutto perché pioveva sempre. Io sono del sud, sono della campagna, quindi sono abituato al sole, al mare, al cibo buono. Immaginate che comunque lì non c'era niente di tutto questo, poi soprattutto a Liverpool. Non è manco come Londra, che a Londra è più, diciamo, multinazionale la città. E quindi sono partito da Liverpool in un'azienda di videogiochi che si chiama Lucid Game e ho lavorato lì al mio primo videogioco per PlayStation 5. All'epoca era il 2000, mi pare 18, qualcosa del genere, e lavorai per PlayStation 5. La PlayStation 5 doveva ancora nascere, cioè doveva ancora uscire. sarebbe uscito, mi pare, dopo forse 3-4 anni, non lo so, però noi già lavoravamo ai giochi PlayStation 5. Dopo quell'esperienza di dieci mesi io mi licenziai perché dissi io voglio fare film e non voglio fare videogiochi nella mia vita. Ok, va bene l'esperienza di dieci mesi per iniziare la famosa gavetta, no? Se vogliamo dire, di dieci mesi e dopo ho iniziato a lavorare nel mondo cinematografico, appunto. Quindi mi sono trasferito di nuovo dopo dieci mesi che ero stato lì. Quindi di nuovo rifai le valigie, riorganizza la vita, no? E sono stato a Bormut, che è praticamente sulla costa dell'Inghilterra, diciamo, vicino a Brighton. Quindi lì era bello perché, per esempio, c'era sempre sole. Il cibo, vabbè, è sempre brutto, diciamo. Però c'era il sole, diciamo, c'era il mare, quindi questa è una cosa positiva. E lì ci sono stato per circa, mi pare, sei mesi, cinque, sei mesi, non molto, perché dopo mi sono trasferito ancora in un'altra azienda, che dopo vi racconto. E comunque in questa azienda ebbi l'opportunità di lavorare a... Aspetta, cosa ho lavorato? Ah, a un film di Shark, un film di Squali, ecco, che adesso non mi ricordo come si chiama. Vabbè, non mi ricordo di nome, aspetta. Però non si è partita di Sharknado perché con le rai. No, è tipo, però non è quello. Ok, e si chiama... Vabbè, comunque ho lavorato a... Ma non mi ricordo i nomi. Aspetta, vado su MDB. MDB, ovviamente, è un sito dove ogni artista si registra e fanno vedere, cioè, tu puoi far vedere, diciamo, tutti i tuoi film a cui ho lavorato. Grazie mille, ti ringrazio. Sì, io sostanzialmente la cosa che dico a tutte le persone è quello di seguire sempre i propri sogni, di non fermarsi mai e non farsi mai anche, diciamo, farsi condizionare dalla società e da quello che le persone dicono. Per esempio ho avuto molte critiche, ma anche la famiglia, nel senso che giustamente, per esempio, i miei genitori dicevano Valentino, prova ad andare all'università perché comunque quello è il patto, diciamo, che tutti quanti seguono. Però diciamo che alla fine mi hanno... cioè, alla fine ho sempre fatto quello che volevo e alla fine anche i miei genitori mi hanno sempre supportato, quindi alla fine è tutto a posto. Però è normale che all'inizio c'è sempre quel mindset, quella mentalità di pensare, diciamo, in modo standard, ecco. E allora il film si chiama 47 Metri Down Uncaged, che è un film degli squali, di squali, prendete, è un film quindi ambientato sotto il mare, underwater, e diciamo, è un film, diciamo, onesto. Non è ovviamente Marvel, Disney, eccetera, eccetera. Poi ho lavorato anche a Watchmen, alla serie TV, e sì, prendete, c'erano queste mucche da fare in 3D, e, diciamo, mi sono occupato di quello, nulla di complesso. E allora, praticamente, queste sono le prime due esperienze molto easy, tra virgolette, perché poi easy a livello, diciamo, di nomi dei film, ok? Però, diciamo, a livello di vita è stato comunque molto complicato, perché vivere da solo, ricostruirsi ogni volta una vita, perché comunque io ho fatto 10 mesi a Liverpool, poi mi sono spostato, e, appunto, bisogna ricostruire quello che è la tua vita, gli amici, eccetera, eccetera. Lì ho conosciuto anche degli amici italiani, quindi dei colleghi italiani, che poi sono diventati amici, appunto, con cui oggi ci tengo ancora rapporti, ci lavoro, e questo è bello, questa è una cosa bella. Per esempio, tengo il mio conquilino italiano, che ho conosciuto in questa azienda, quando ero a Bormut, che si chiama Outpost, l'azienda Outpost Visual Effects, e lui adesso oggi è il mio conquilino, insomma, siamo insieme, giochiamo, nel senso, viviamo insieme. Poi, dopo Bormut mi sono trasferito, dopo questi 5 mesi, e ho cambiato azienda. Dall'Inghilterra mi sono spostato in Germania, a Monaco, a Monaco di Baviera, per la precisione, e sono stato in un'azienda che si chiama Trixer, è un nome un po' particolare, però vabbè, Trixer, e qui ho lavorato i miei primi film Marvel, quindi andiamo già, iniziamo ad andare sui film, un azieno più importanti, e ho lavorato a Black Widow, Vedova Nera, sì, poi a Suicide Squad, e Shanky, la leggenda dei Cianelli, praticamente. Lì è stato molto bello, per esempio, ho lavorato, diciamo, quando riguarda Suicide Squad, ho lavorato su dei props, noi li chiamiamo props, i props sarebbe tutto quello che non è character, cioè tutto ciò che non è umano, quindi per esempio, che ne so, elicotteri, aerei, io ho lavorato su degli aerei ed elicotteri, vengono chiamati props in 3D. Allora, diciamo che, poi non vi ho spiegato bene di quello che mi occupo, sostanzialmente il mio ruolo si chiama Rigger TD, Rigger Technical Director, è quella branchia della computer grafica che si occupa di costruire uno scheletro interno ai character, quindi ai personaggi 3D, in modo che l'animatore successivamente prende questi rig realizzati da me e attraverso dei controlli specifici può muovere il character e animarlo nella scena in 3D per poi inserire tutto questo in un grande environment e poi nel finale con un rendering e poi insomma il cinema. Diciamo così, molto basico, però non è quello. La grafica 3D sono moltissimi settori, cioè nel senso non c'è una singola persona che si occupa di tutto, cioè per esempio chi fa il lighter, cioè la persona che mette le luci, chi fa l'animazione appunto, texturing, quindi che colora sostanzialmente quel character, che lo fa realistico, che gli dà un colore, perché inizialmente il materiale che viene dato è un grey, quindi un colore grigio, questo è di default a tutti quanti. Poi deve essere colorato, quindi texturizzato e successivamente si passa a quello che può essere per esempio il compositing, cioè unire tutti gli shot, gli shot sarebbero delle sequenze, ok? Per esempio di 10 secondi di un film, per esempio in azienda funziona che c'è la produzione che ti assegna questi shot e dice Valentino io ho bisogno di questi shot in totto tempo e io in quel totto tempo gli devo realizzare quei shot che durano per esempio 10 secondi. E poi questi 10 secondi, ogni singolo shot viene messo insieme, quindi a catena, e insieme vengono realizzate le sequenze e le sequenze successivamente si realizza il film, perché poi anche le sequenze vengono messe una dietro l'altro e alla fine il film completo che vediamo al cinema sostanzialmente. Però è un lavoro molto complesso e richiede moltissimo tempo, pensate che una produzione può richiedere dai 2 fino anche ai 3 anni, 2 anni e mezzo, diciamo questa è la media a produzione, quindi a film. E comunque vi stavo dicendo, sì, dopo ho lavorato in Trickster a questi film Marvel ed è stato molto anche lì molto bello, molto di esperienza devo dire, e anche lì comunque è stato complicato perché comunque lì si parla il tedesco, quindi comunque rifarsi una vita in Germania è complicato. E poi alla fine niente, dopo Trickster sono stato assunto finalmente dalla industria light magic che era il sogno per il quale io, tra virgolette, vivevo, cioè nel senso il mio obiettivo era quello di lavorare nelle grosse produzioni, non nelle piccole produzioni. Io volevo fare questo mestiere, ma nelle grandi produzioni, perché molta gente per esempio dice, vabbè io voglio fare questo mestiere, però mi accontento di lavorare nelle piccole produzioni, per esempio rimanere in Italia, eccetera, eccetera, anche se in Italia non abbiamo poco, cioè non abbiamo quasi niente, poco e niente. Io no, volevo viaggiare, volevo esplorare, eccetera, eccetera. E quindi ho lavorato alla industria light magic sostanzialmente, acquisita oggi da Disney ovviamente, infatti il beige non c'era scritto industria light magic, noi avevamo proprio il beige colorato, targato Disney, c'era il simbolo di Topolino, scritto Walt Disney Company, Affiliated, perché giustamente è un'affiliazione, e sono compagnie affiliate, però è bellissimo perché è proprio un'altra atmosfera, cioè si vede che c'è proprio lo zampino, diciamo, di Disney, ecco, già fin da quando arrivi dentro, come ti alcolgono, come, diciamo, ti preparano, ecco, per esempio ci sono due settimane di training, in ogni azienda è difficile trovare aziende che ti fanno proprio del training, cioè io avevo proprio dei professori interni che tu li chiamavi e loro, c'erano proprio delle call su Teams e loro ti insegnavano ad usare i programmi proprietari, ci sono dei software proprietari della Disney e che ovviamente non si possono scaricare, diciamo, i comuni mortali non possono scaricare sui loro computer, e quindi giustamente tu devi imparare questi nuovi software, utilizzarli, ed è complicato, quindi ci sono proprio dei professori interni, dei tutor, ecco, e poi è bello perché comunque tu non è che parli solamente con la gente di Londra, ILM ha da diverse sedi, c'è a Vancouver, c'è a Sydney, c'è a San Francisco, ovviamente San Francisco è la sede centrale dove c'è l'azienda ILM, e poi ci sono, diciamo, tra virgolette le succursale, diciamo così, sono altre sedie, ecco, semplicemente, e io sono stato a Londra, Londra centro, sono in zona 1 ancora, e ho lavorato a diversi show, ho lavorato a ABBA, che è uno show, questo non è un film, ma è uno show di hologrammi, dove praticamente hanno costruito uno stadio intero, e ci sono questi artisti, c'è questo gruppo musicale che si chiama ABBA, e noi abbiamo realizzato questi DigiDouble, i DigiDouble non sarebbero altro che il character in 3D, quindi la persona reale in 3D viene chiamato DigiDouble, e noi ricreiamo tutto attraverso scansioni, eccetera, eccetera, ricreiamo questi personaggi in 3D, e poi sono stati proiettati in questa grande arena, con delle luci, e sembra di avere sul palco questi cantanti, diciamo, questo gruppo musicale che canta, e infatti quando sono andato anche io a vederli, sembravano reali, cioè nel senso non sembravano finti, ecco, e cioè non sembravano in 3D, ecco. L'industria di letto e magic sotto questo punto di vista, ovviamente, essendo una delle migliori al mondo compagnie, non poteva che fare di meglio, cioè nel senso, assolutamente. E poi ho lavorato a una serie TV per bambini che si chiama Lo Stolli, che uscirà il 24 di agosto, mi pare, su Netflix, quindi è nuova, e lì mi sono occupato di, il ruolo si chiama CFX, quindi Creature FX, ed è tutto quello che riguarda l'FX, quindi il mondo di, non è, FX può essere inteso come tipo esplosioni anche, ma non è quella roba lì, ma è anche roba di simulazione, quindi per esempio c'era l'animatore che animava questo character, e io dovevo simulare quelli che erano per esempio i vestiti da sopra, perché i vestiti non vengono animati mai, perché sarebbe impossibile, ci sono tantissimi piccoli micro-movimenti che ogni vestito fa, che animarli a mano sarebbe impossibile, quindi vengono simulati da sopra all'animazione in dinamica, e per fare questo, diciamo, ci sono delle tecniche specifiche, e per esempio noi siamo Udini, che è un programma, che è un programma, un software, della SideFX, e per simulare vestiti, per simulare, diciamo, in generale, per esempio, si può anche simulare muscoli, pelle, perché per esempio la CFX comprende anche questo, cioè praticamente la simulazione, praticamente per fare un character realistico, per esempio se abbiamo un leone in 3D, quello che noi facciamo è fare l'animazione del leone, poi da sopra andare a simulare quelli che sono i muscoli, quindi vengono demodellati proprio dei muscoli, come se fosse reale, quindi noi diamo l'anatomia, e da sopra i muscoli viene attaccata la pelle, quindi vi dovete immaginare come se fosse un UROP, quindi un UROP sui muscoli della pelle, della geometria, perché è una geometria sostanzialmente, e da sopra viene simulata, e sembra, diciamo, il risultato è molto reale, perché i muscoli sono anatomicamente perfetti, quindi capite bene che quando la pelle, quindi quando la geometria aderisce bene al muscolo, si vede proprio il movimento della pelle, e anche per esempio l'effetto dello sliding, la nostra pelle slida, cioè si scivola, ecco, diciamo così, e questo anche deve essere simulato, quindi ci sono tanti passaggi da fare, e questa è solo una branchia, ecco, di tutta la computer grafica, perché come dicevo prima c'è l'animazione, rig, compositing, lighting, eccetera, eccetera, ok? E dopo Industria Light & Magic, che ci sono stato lì un anno, sempre a Londra, sono passato in un'altra grande major, che si chiama NPC Film, con sedi anche qui a New York, Vancouver, mi pare anche a Parigi, mi pare, non mi ricordo, ma comunque anche a tante altre sedi, e qui ho lavorato a, sto lavorando, cioè vabbè, ho lavorato a Pinocchio, che uscirà a settembre, questo settembre, ed è stato bello, diciamo non ho lavorato sul caratter principale, però ho lavorato su dei caratter secondari, e mi sono occupato della faccia, quindi del facciale, di tutte le espressioni facciali, ed è stato bello, perché praticamente abbiamo lavorato con la Industria Light & Magic, cioè Industria Light & Magic, ci passava tutte le espressioni facciali, e io dovevo connettere queste espressioni facciali, in modo che poi l'animatore potesse animarle in maniera fluida, ecco, diciamo, e queste espressioni facciali, ovviamente vengono date dal motion capture, e il mio sistema di motion capture, ovviamente, lo detiene la Disney, e infatti ci sta anche un software, che è proprietario, che si chiama, mi pare, Anima, no, non si chiama Anima, sì, si Anima, si chiama, e si può cercare benissimo su Google, però ovviamente non si potrà mai scaricare, e c'è solamente una piccola documentazione, se non ho sbaglio, e da lì viene realizzato quello che è il motion capture, e poi sono state passate da noi tutte le espressioni facciali, io le ho collegate, insomma, e da lì si vedrà questo risultato finale delle espressioni facciali, che si muovono in maniera molto fluida, e poi ho lavorato alla Sirenetta, a Little Mermaid, sto lavorando, che uscirà nel 2023, l'anno prossimo, e qui mi sono occupato del personaggio principale, che appunto è Ariel, e anche qui ho fatto la stessa cosa, quindi sempre espressioni facciali, quindi del facciale, e poi c'è un terzo progetto, che però purtroppo non posso dire, perché è in fase ancora di lavorazione, ed ancora non è stato annunciato, però è il progetto più grande, di cui sono anche più contento, però purtroppo ancora non posso parlarne, e questo è stato il mio percorso lavorativo, ecco, e i miei film a cui ho lavorato, e adesso io ho 25 anni, e ne sono molto contento, diciamo, di questo percorso che ho fatto, e che comunque sto facendo, sto realizzando, e anche perché appunto era il mio sogno, di quello di lavorare all'Industria Light & Magic, o comunque a questi grandi film Disney, e quindi diciamo che adesso sono contento, diciamo, di quello che ho fatto, prima c'era sempre una ricerca, nel dire, ma voglio fare, voglio fare, eccetera, eccetera, però quello che posso consigliare, diciamo, di non avere mai fretta nelle cose, che le cose poi piano piano arriveranno, la cosa importante che ci vuole è la dedizione, nelle cose e volerci, quindi volere arrivare, volere a tutti i costi farcela, e avere un obiettivo, senza pensare agli altri, a quello che potrebbero dire, eccetera, eccetera, questo è quello che mi sento di dire, diciamo. Rilassati. No, no, io parlo molto così. Un perdato di cose fantastiche, però non voglio nemmeno che ti si spezzi la voce, a un certo punto. No, ma io sono così, parlo, no, ma io sono così, cioè io sto rilassatissimo, rilassatissimo, sono io che sono sempre a mille, sono iperattivo, quindi, però non è, cioè sto veramente molto rilassato. Ora, avrei un sacco di domande, ma inizierei da una domanda che è stata fatta in chat un attimo fa, che è, quanta gente lavora alla IAM? No, non sono 500, allora siamo moltissimi, purtroppo contarli è impossibile, però siamo migliaia, cioè si parla di migliaia e migliaia di persone. Pensa che adesso solamente, per esempio, dove sono io in questo studio MPC Film, a Londra, siamo solamente 5.000, solo Londra, più o meno dai 4.000 ai 5.000, c'è un intero building dedicato solo a dipendenti MPC, e siamo più o meno 4.000, 5.000 persone. Quindi, l'industria light and magic, in realtà, ne ha di meno, e ne ha di meno, però comunque si parla di migliaia di persone. 500 è pochissimo, cioè, non si farebbe, si farebbe forse, due show si farebbero forse con 500 persone. Poi, sempre la stessa persona ha chiesto quanti anni hai? Io ho 25 anni, ho 25 anni. Come? Siamo coi tali. Siamo coi tali. Ah, pure tu 25. Questa roba. Ah, vedi. Cioè, marzo 97. Io sono di febbraio. Eh, vedi, è quel mese, è quel mese, vuol dire che sia un mese. 8 febbraio io, ma non so tu, però. Sì. 8 febbraio. Sì. 6 marzo. No, 8 febbraio 97. E io 6 marzo 97. Veramente. Abbiamo un mese di differenza. È un mese, sì, esatto, un mese. è preciso, un mese e due giorni. Esco. Sì. Poi, mi chiedono, ma attualmente lavorate da remoto o in azienda? Allora, attualmente stiamo lavorando da remoto, perché, comunque, per il covid, eccetera, eccetera, hanno per fortuna anche queste aziende, diciamo, che questi colossi si sono resi conto che lavorare in azienda era impossibile. E dico questo perché Disney ha sempre premuto, o come Disney, ma come tutte le altre aziende, di cinema, hanno sempre premuto sul fatto di lavorare in azienda perché noi firmiamo dei contratti specifici che si chiamano NDA, dove non possiamo divulgare le informazioni, non possiamo divulgare le informazioni sostanzialmente, perché noi lavoriamo prima i film e giustamente e non possiamo spoilerare quello che stiamo facendo, comunque storie, il plot, diciamo, non so come si dice in italiano, il plot, la trama, ecco, la trama, e non possiamo divulgarne. Quindi, divulgare queste informazioni sarebbe una grossa perdita per tutte le aziende, però per fortuna si sono reso conto che non si poteva lavorare in azienda e si sono reso conto che, infatti, ci hanno agevolato sul remoto, quindi adesso al momento sono a casa e lavoro da remoto, però se voglio posso andare in azienda benissimo, senza problemi, basta che faccio il booking del desk, cioè della scrivania, c'è una prenotazione e io il giorno dopo vado in azienda e col beige, insomma, quello, easy. Questa è una domanda ipertecnica, quindi io non so che cacchio che è. Sì, allora lo stagecraft sarebbe praticamente una nuova tecnologia e praticamente è una sorta di, è praticamente sono dei led, è un pannello, invece di usare il green screen, sai cos'è il green screen, giusto? Sì, ovvio, ok, tutti. Pinchiamo una cosa che si può trovare sui libri di storia del cinema, io la so, quando prate di qualcosa, la tecnologia dell'anno scorso non è riuscita da nessuna parte, io non so un cazzo. Sì, ok, praticamente quello che prima veniva, allora lo stagecraft sostituisce il green screen, ok, semplicemente con il green screen bisogna fare un lavoro in più perché il green screen tu devi girare in green screen e poi in post-produzione con il compositing devi andare a ritagliare il character e integrarlo nello shot, quindi nella scena, nell'ambientazione. Con lo stagecraft è completamente diverso, cioè funziona che l'attore è come se stesse recitando sul set proprio, è un pannello, quindi immagina una sorta di pannello di televisione diciamo così curvo a 360 gradi che ricopre tutto l'attore quindi è grandissimo immagina e l'attore viene messo in mezzo allo stagecraft lo stagecraft può ruotare ruotando cambia per esempio lo scenario eccetera eccetera e viene registrato cioè il film viene realizzato proprio viene film cioè la camera si muove e riprende sia l'attore e sia l'ambientazione in 3D dietro perché viene proiettata sullo stagecraft quindi su questo pannello su questi led che ricoprono l'attore a 360 quindi sostanzialmente è come se tu stessi sul set sostanzialmente quindi non c'è più lavoro di postproduzione o comunque se c'è perché c'è però è molto meno rispetto a che prima cioè è come una retroproiezione ma in 3D esatto praticamente sì tu dietro vedi direttamente il set capito ovviamente il set non esiste cioè è in 3D il set capito perché non è reale perché è tutto realizzato in computer grafica il set e l'attore viene messo su questo set e loro registri loro filmano e insomma quindi su cosa è proiettato però in che senso su cosa è proiettato cioè in realtà è tranquillamente piatto ok ma no non è piatto è curvo tutto curvo capito ok ma intendo dire che non ha la forma delle rocce no no non ha le forme delle rocce ma quello non ti interessa perché a te interessa lo scenario dietro capito poi le rocce vengono realizzate in 3D magari e vengono immesse sul diciamo nello shot finale perché poi non è solo lo stagecraft ci sono altri cioè vengono integrati anche altri elementi ecco però lo stagecraft aiuta ecco è un aiuto iniziale diciamo così capito però assolutamente è una tecnologia assurda cioè nel senso ma è fantastica perché in realtà ha un grandissimo passo indietro cioè è fondamentalmente quello che si faceva una volta prima che esistesse il primo antenato del green screen esatto prima del green screen praticamente esatto è quello che faceva quando voi vi guardate film che ne so di Victor Fleming è così che facevano le ambientazioni e oh mio dio mi stai uccidendo a dirmi questa cosa semplicemente per esempio ho capito se tu vuoi fare per esempio voglio andare su voglio fare il mio diciamo la mia persona che è su Marte ovviamente non possiamo ricreare cioè non è che possiamo andare su Marte veramente quindi con lo stagecraft tu ricrei l'ambientazione in 3D proietti il 3D sullo stagecraft e sostanzialmente tu sei su Marte capito ma questa cosa fatta che ne so nei parchi hai presente che DM ne farebbe esatto capito esatto si si no è una tecnologia assurda al momento lo detiene la Disney ILM e si e c'è anche un'altra azienda in Germania che detiene una sorta simile di stagecraft si però si è assurda come cosa qual è la parte più difficile del tuo lavoro allora la parte più complicata del mio lavoro è proprio il lavoro stesso cioè nel senso che no diciamo che è un lavoro molto stressante a noi per il semplice fatto che allora noi parliamo noi siamo sempre in comunicazione con i vari artisti eccetera eccetera ok e la parte più complicata è la parte di del rifare le cose questo avviene perché praticamente diciamo nel mondo del cinema noi lavoriamo al computer e quello che i clienti si diciamo usano come scusa il fatto che le cose si possono sempre rifare ok perché si dice quella cosa è fatta al computer quindi si può sempre rifare e la cosa più complicata forse del lavoro è appunto forse il rifare quelle cose 3000 volte perché noi facciamo veramente quella cosa siamo veramente su quella cosa mesi mesi e mesi cioè praticamente alla fine del film tu non lo vuoi manca guardare il film perché l'hai visto talmente tante volte che ti annoi proprio anche se è il film più bello a cui tu vuoi lavorare alla fine dopo ti annoi perché rivedi quelle cose per mesi e mesi e quindi diciamo che la produzione interna ti viene sempre a dire per esempio fai quello rifai quello è una parte abbastanza noiosa che però ovviamente fa parte del lavoro fa parte del gioco e ovviamente anche la parte più complicata diciamo del mio lavoro specifico quindi rig è a me è un lavoro molto tecnico perché bisogna costruire appunto la struttura interna per poi fare in modo che l'animatore animi quel character e quindi bisogna sapere per esempio programmazione matematica fisica un po' di tutte queste materie qui perché diciamo è complessa la cosa non è semplice a me non è un lavoro molto artistico se parliamo di rig se parliamo di cfx quindi di simulazioni quindi simulazioni di muscoli pelle quindi simulazione per esempio del character è diverso perché lì magari c'è un pochino di più artistico sai ed è anche più bello cioè adesso mi sto cercando di spostare verso questa parte di cfx quindi creature fx che poi è già il nome diciamo un attimino più figo rispetto al rig rig non si capisce bene cos'è però diciamo è una parte molto tecnica perché appunto per esempio immaginate che devi far muovere una macchina no e vogliamo fare in modo che le ruote della macchina girino autonomamente in base alla velocità che l'animatore imposta per quella macchina tu devi attraverso delle equazioni matematiche delle espressioni matematiche devi fare in modo che le ruote girino da sole a seconda della velocità della macchina per esempio questo è un esempio per far capire il mio lavoro quanto è tecnico sostanzialmente quindi sì diciamo questa è la parte più complicata rifare tante volte la stessa cosa e poi ovviamente è un lavoro sempre di ricerca e di studio cioè veramente non ci si firma mai di imparare nuove cose ogni giorno escono cose nuove ed è difficilissimo stare al passo e questo anche provoca diciamo tra virgolette stress perché non è un lavoro diciamo meccanico ecco che tu impari a fare quel mestiere e lo fai così giorno per giorno è la stessa cosa no qua capita che a distanza di sei mesi cambiano i sistemi cambiano le cose e tu ti devi studiare i nuovi sistemi eccetera eccetera quindi è sempre un lavoro di arrendi ricerca e sviluppo diciamo anche quindi questa è la cosa più pesante però ovviamente se ti piace lo fai e a me piace quindi diciamo lo faccio con piacere però alcune volte comunque è stressante ed è complicato però insomma piano piano ci si riesce a fare tutto ti vorrei abbracciare no ti ringrazio anche io allora prima hai citato il fatto che hai dovuto lavorare all'espressione facciale di Ariel sì questo mi crea una domanda ovvero è perché ci sarà un supporto al volto dell'attrice o è perché davvero sarà fatta in CGI allora questo non lo so nel senso che non so al cento per cento allora sicuramente io penso che sia un poco 3D e un po real capito cioè è un misto ecco però noi abbiamo la sirenetta è l'attrice e tu devi modificare leggermente il volto per qualche motivo che sia che ne so che le abbiano messo delle branchie no perché per esempio ci sono per esempio degli shot cioè delle sequenze in cui non lo so questo è un esempio non so non sto facendo spoiler per esempio facciamo un esempio generico per esempio ci sta in uno shot dove per esempio gli viene bruciata la faccia in quel caso tu non è che puoi bruciare la faccia all'attore veramente quindi quello che viene fatto è viene ricostruita la faccia diciamo la faccia ma anche il corpo in 3D e viene diciamo viene simulata la faccia attraverso le espressioni facciali e sembra diciamo da quell'effetto potrebbe dare per esempio quell'effetto che ne so che si scioglie che ne so che prende fuoco che si annerisce per esempio ovviamente sull'attore normale sull'attore reale queste cose qui non le puoi fare perché se no quello muore bisogna andare all'ospedale però insomma in CGI si può fare e quindi realizzi il fuoco e poi realizzi quello che è il digidouble e quindi fai per esempio l'espressione facciale che con la bocca rotta per esempio che ne so che si sta sciogliendo non lo so capi può essere di tutto comunque può essere anche sicuramente viene realizzata anche Ariel per esempio è stata realizzata anche per il semplice motivo di proiettare il lighting in 3D negli shot cioè nel senso che quando facciamo il lighting delle scene quindi le luci perché immaginate che noi abbiamo fatto tutto quanto in 3D tutta la scena con l'ambientazione ovviamente non ci sono le luci se io renderizzo è una scena spenta cioè si vede nero il render è nero quindi devono essere fatte le luci come sul set noi creiamo le stesse luci che ci sono sul set in 3D e ricreando le stesse ricreando le stesse luci quindi mettendola nelle stesse posizioni la stessa posizione che era sul set noi abbiamo la stessa scena praticamente 3D o 3D o real è la stessa cosa nel render cioè nel film finale voi non capirete mai se è in CG o è real perché noi abbiamo ricreato la stessa cosa sostanzialmente in computer grafica questo è il 3D sostanzialmente questo significa fare 3D anche e per esempio ci sta il VFX supervisor di ogni show che va proprio sul set di ogni singolo film quindi con gli attori e tutto lo fanno entrare e lui prende per esempio un materiale cioè prende informazioni per esempio la posizione della camera delle luci eccetera eccetera in modo che lui se le porta in azienda viene in azienda poi le passa a noi e noi attraverso la camera giusta le luci giuste noi possiamo ricreare la stessa scena del set in 3D e con quella stessa scena con quella stessa scena che era sul set noi per esempio possiamo proiettare le luci nel 3D e quindi creare un'ambientazione per esempio diversa creare un'ambientazione per esempio di fuoco dove c'è un tantissimo fuoco che nella realtà lo potresti fare ma costa un sacco di soldi puoi fare tutto diciamo poi successivamente e quindi questo è quello che facciamo mi sono perso non ti preoccupare è stato molto affascinante vederti perdere ma ho anche una buonissima notizia per te sì il progetto di cui tecnicamente non puoi parlare perché ti ho detto guarda che mi sa che non l'hanno annunciato sono andato a controllare lo hanno annunciato lo hanno annunciato solo che io non lo sapevo perché è successo nel 2019 quindi appena è uscito il primo film dicendo guardate abbiamo intenzione di fare anche questo quindi tecnicamente tua libera scelta puoi dire il titolo perché è già stato annunciato magari lo dico solo però non dico ok stiamo lavorando sulla produzione di Lion King 2 il secondo non vuoi aggiungere nessun tipo di altro dettaglio sto lavorando sul diciamo sul sistema di di muscoli quindi di CFX quindi simulazione della pelle su uno dei diciamo dei character principali devo dire che comunque andando a controllare ho scoperto che ci sarà un cambio di regia niente Jean Favreau per il Re Leone ed è una cosa molto positiva perché la cosa che io avevo criticato di più del vecchio Re Leone era proprio le inquadrature paro paro dall'animazione ma che appunto in CGI non funzionavano allo stesso modo perché l'inquadratura della faccia di Simba è inutile perché è un gatto non ha espressioni fazzali mostrami tutto il corpo per farmi vedere che è triste fammi vedere le orecchie che si abbassano e invece no il regista ha semplicemente preso il film quindi magari potrebbe essere meglio a livello diciamo di regia ora sapere che il 2 sarà una cosa abbastanza nuova e che il regista sarà Barry Jenkins quello di Moonlight ah quello di Moonlight uno molto autoriale ah allora vedi non vedo l'ora di vedere il tuo lavoro e stavolta apprezzarlo anche io uscirà nel 2025 quindi tra tre anni mamma mia è appena iniziata la produzione praticamente però però in compenso puoi dire di essere forse l'unica persona ad aver mai lavorato sia a Pinocchio che la Sirenetta visto che con quelli originali sono anni in mezzo sì assolutamente infatti anche per questo motivo sono molto contento perché alla fine sono i nostri film dell'infanzia tutti questi e lavorarci poi capito è ancora più soddisfazione quello sicuramente so che alla prossima domanda risponderai parlando due ore e mezza vai stavo cercando di rimandarla vediamo qual è la parte che preferisci del tuo lavoro allora la parte che io preferisco del mio lavoro sì è il fatto di cambiare cioè nel senso cambiare proprio paese nel senso che a me non piace essere sempre in un posto fisso a me piace sempre esplorare nuovi nuovi paesi nuove cose eccetera eccetera quindi il fatto che tramite questo lavoro mi permetta di viaggiare molto per esempio un anno posso stare in Spagna un altro anno posso stare a New York un altro anno posso stare questa è una cosa bellissima per me perché da una parte faccio il lavoro che mi piace e dall'altra viaggio ed esploro ed esploro il mondo e assolutamente questa è la parte diciamo queste sono le cose più belle la parte più bella è proprio il fatto di di CFX lo ripeto quindi quella è una parte che mi piace tantissimo cioè simulare proprio come nella realtà il character quindi la pelle come dicevo prima i muscoli eccetera eccetera quella è la parte a livello tecnico questa è la parte più bella che mi piace poi a livello di esperienza è il fatto del viaggiare conoscere gente eccetera eccetera quello assolutamente sì wow domanda che workstation hai e soprattutto quanto costa? allora noi non lavoriamo con le nostre workstation ma lavoriamo con le workstation aziendali quindi noi siamo connessi attraverso VPN eccetera eccetera alle workstation aziendali e non esiste il fatto che tu puoi lavorare con il tuo computer per il semplice fatto che se loro ti passano dei file tu quei file li puoi benissimo rubare magari e metterli in rete ed è una cosa illegale di cui si va in tribunale eccetera eccetera cioè sono cose veramente pericolosissime quindi per evitare tutto questo Disney obbliga a tutte le aziende ad avere workstation aziendali appunto e quelle workstation aziendali sono limitatissime cioè non hanno internet cioè tu non ti puoi connettere a internet in modo che non puoi trasferire file non puoi connettere per esempio penette usb perché non vengono lette cioè tu la connetti e non fa niente al massimo puoi caricare il telefono quindi per farti capire il livello di sicurezza deve essere molto alto e pensa che noi non lo facciamo cioè io non l'ho mai fatto però ho visto dei video di sicurezza realizzati da Disney per i dipendenti e apparentemente faceva vedere che quando tu entri in azienda di regola dovresti mettere il tuo telefono in tipo degli armadietti perché col mio telefono essendo al lavoro posso registrare lo schermo ovviamente tutti lo fanno però non si devono mandare cioè non devono essere divulgati in rete quello è poco ma sicuro perché altrimenti però diciamo di regola la buona regola vorrebbe che tu chiudessi questi telefoni diciamo negli armadietti ho visto questi video insomma qui non vengono attuate queste regole però magari in America sì non lo so non ho mai lavorato in America e comunque sì costano sono workstation ad esempio da 64 giga di ram mi pare e i nove insomma sono ottimi poi non vedo le specifiche tecniche perché non mi interessa però sono comunque workstation molto prestanti quello ovvio perché comunque dobbiamo gestire quantità di dati grandissime cioè si parla comunque di di tera quindi assolutamente e vabbè io a casa ho una semplicissima 3070 un computer abbastanza normale cioè nel senso però sì serve il computer potente per fare questo tipo di mestiere questo sì wow qualcuno qui si è preso una cotta per te e chiede di vederti senza occhiale per favore ma senza occhiale così assolutamente perfetto poi c'è gente che chiede come sia possibile che capitano lo stesso i leak e la risposta è ragazzi c'è sempre un modo di violare la legge no anche perché non si sa mai chi può fare i leak può essere la donna delle pulizie può essere il capo può essere chiunque sì ma è per quello che spesso capita che quando riceviamo dei leak siano spesso delle cose stranissime perché spesso vengono fatte da qualcuno che non capisce che cosa sta guardando e quindi ti dà un'informazione completamente sbagliata sì ricordo che c'è stato un leak non troppo tempo fa inerente a un progetto della lego tra l'altro e questa persona non sapeva come funzionassero i lego e quindi ha iniziato a dire cose che erano legate in realtà a come funziona la produzione stessa della plastica e che quindi sì noi sappiamo già che per fare un pezzo di plastica serve uno scarto non serve che per dimostrare l'immagine e lei era convinta di dimostrare chissà quale incredibile novità e anche un pezzo di un volto che probabilmente non aveva capito fosse un volto e quindi aveva diffuso 19 vabbè poi succedono anche queste cose però insomma può succedere di tutto però queste sono coincidenze però la cosa importante è che noi artisti non dobbiamo divulgare niente questa è la cosa fondamentale anche una questione di correttezza che te ne fai di fare un leak brava beh capii cioè che ti interessa cioè sì allora allora quali sono i principali miti sul tuo mondo in che senso cose che la gente crede che funzionino così in realtà manco per il cazzo ah ok e guarda allora parti da uno semplice magari sì no certo allora per esempio guardando me stesso come ho detto pure prima diciamo che la società di oggi no ci ha abituato a seguire dei path standard quindi che bisogna studiare cioè bisogna studiare ovviamente cioè studiare in senso andare a scuola fare università vabbè la scuola è la base però comunque fare l'università laurearsi sposarsi trovare un posto fisso poi soprattutto questa è una cosa che al giorno d'oggi prima cosa non esiste più il posto fisso e poi per me chi lo ricerca c'è ancora una mentalità antica e perché comunque cioè queste sono mentalità vecchie ma non esistono più queste cose qua e per esempio ho visto molta ho fatto allora la storia è che ho fatto ho provato a fare sei mesi di università poi non ci sono riuscito perché appunto non era quello che volevo fare e da lì ho fatto quel master in computer grafica di altri sei mesi che poi mi ha permesso di partire in giro per l'Europa a fare questo tipo di lavoro e durante quei sei mesi di università vedevo gente che stava all'università però senza un obiettivo senza uno scopo e e quindi stava magari lì solamente perché diceva ah questo è lo devo fare perché altrimenti se non lo faccio pare che non faccio niente nella vita le persone poi mi giudicano eccetera eccetera questa per me è una scemenza perché sicuramente bisogna fare bisogna seguire i propri i propri valori le proprie le proprie passioni e i propri obiettivi che uno ha nella vita io capisco capito anche magari un ragazzo di vent'anni che ancora non ha trovato la propria strada però il mio consiglio è quello là di per trovare la propria strada giusta il mio consiglio è quello là di esplorare il più possibile perché solamente esplorando e quindi non estando nella zona di comfort si può uscire e si può conoscere il mondo e quindi conoscendo il mondo uno può capire cosa gli piace e cosa non gli piace sostanzialmente questa è la diciamo la mia visione ecco e semplicemente stanno sgozzando qualcuno lì come? stanno sgozzando qualcuno a Londra ah sì no sono i bambini fuori che stanno giocando se volete chiedo alle finestre però vabbè no non ti preoccupare è bello sentire i bambini che si ammazzano tranquillo non volevo adesso ti distrae non ti ricordi cosa stavi dicendo no mi ricordo mi ricordo vai e quindi niente praticamente la cosa fondamentale è seguire le proprie passioni e i propri obiettivi uno se non ha ancora appunto non ha ancora trovato la propostrada deve esporre il più possibile questo stavo dicendo e e quindi niente cioè questo nella vita uno deve fare ciò che si sente di fare e non ciò che gli altri si sentono di si sentono di fare per te capito uno deve essere libero senza restrizioni qua nessuno ci obbliga a fare niente ognuno deve essere se stesso e deve seguire le proprie cose poi capisco che ci sono quei costrutti sociali che diciamo ci obbligano tra virgolette a seguire quei percorsi però per me sono una una scemenza ecco non hanno valore tra virgolette cioè ce l'hanno ma fino a un certo punto ecco sì è un fantastico messaggio per iniziare guarda parlando di miti nel pratico invece io ricordo per esempio che molte persone mi avessero risposto a una frase che io avevo detto dicendomi ma guarda che i film di oh mio dio come diamine si chiama quello delle esplosioni oh mio dio mi sta saltando il nome dai il regista può esplodere qualsiasi cosa ah non lo so non ne capisco niente quella di registi i nomi le cose quindi michael bay bravi bravi i commenti lo sanno ora michael bay sì stavo parlando di un suo film e la gente mi ha detto eh vabbè ma perché dovresti considerarlo speciale alla fine si fa tutto al computer oggi certo lui ha preso dei camion e li ha fatti esplodere con dell'esplosivo andando a prendersi dei camion ha bussato sull'autostrada e l'ha fatto esplodere certo certo ragazzi non è tutto fatto al computer no ovvio ovvio spesso cose che non ti aspetti sono fatte al computer ricordo una volta che i capelli della tizia di Aquaman Amber Earth fossero fatti al computer e suppongo che anche Ariel avrà i capelli fatti in in CGI tutto il tempo è tutto in 3D noi facciamo per qualsiasi film tutto quello che di un character lo facciamo in 3D quindi dai capelli ai piedi tutto in 3D allora un film in particolare i cui effetti speciali o visivi ti hanno particolarmente colpito emozionato o ispirato ma guarda i classici Disney ti rispondo subito cioè io fin da piccolo sono cresciuto con questi film i classici Disney ma anche dalla parte di Lucasfilm con Star Wars Jurassic Park quelli assolutamente però i classici i classici sono quelli che mi hanno ispirato di più e che poi mi hanno diciamo fatto schioccare la scintilla di fare questo tipo di lavoro ecco e mi è partita questo diciamo mi è venuta l'idea diciamo di fare questo lavoro per il semplice fatto che sono stato sempre curioso e volevo capire come si facevano le cose cioè dietro a ogni cosa volevo sempre capire ma come si fa questa cosa per esempio quindi diciamo che sono partito con il film e da lì vedendo i film dicevo ah ma come si fa a fare un film perché in 3D perché io non pensavo ai stori no come fa il personaggio in 3D cioè come si realizza allora me lo chiedevo dicevo no impara pure io allora poi è diventata sempre più seria la cosa fino a che poi a 14 anni non avevo deciso proprio di intraprendere questo percorso e da lì è stata una tra virgolette una scalata diciamo così ma quindi come hai imparato come hai fatto ah sì il mio percorso è stato che dopo allora il mio percorso è stato che ho iniziato a liceo invece io andavo male a scuola facevo ripetizioni di quasi tutte le materie cioè mi mancava solo educazione fisica e religione e questo per il semplice fatto che io tornavo a casa e mi mettevo davanti al computer e a sperimentare con il 3D eccetera eccetera non ovviamente tutto da autodidatta cioè senza fare scuola perché avevo appena 14 anni dopo la scuola ho fatto semplicemente un 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 master di 3D di 6 mesi e poi da lì diciamo mi hanno insegnato un po' quella che è le basi diciamo della computagrafica quindi usare i software come Autodesk Maya che ne so After Effects che è per il compositing e altri programmi da lì diciamo poi ho continuato ovviamente dopo questi 6 mesi a studiare anche da solo perché 6 mesi non bastavano e dopo un anno ho realizzato quello che noi chiamiamo una reel tecnica quindi con tutti è un video di due minuti dove fai vedere tutti i tuoi lavori che hai fatto e lo mandi alle aziende le aziende lo revisionano con un supervisor e il supervisor magari dice ok facciamo il colloquio e ti chiamano e fai il colloquio ad esempio quando sono stato in ILM ho fatto 3 colloqui per passare la selezione è stato il colloquio quello là diciamo più lungo e più complicato tra virgolette relativamente poi quando faccio i colloqui sono molto tranquillo cioè sono come adesso qui in un call non ho ansie non ho cioè sembra che ho ansia perché a me sono molti per attivo ma non ho ansie però sono così cioè easy nel senso ho fatto tantissimi colloqui che ormai per me sono chiacchiere cioè nel senso sono come si chiama incontri ecco diciamo così sono dei meeting non è nulla nessuno sta là per giudicarti come persona o com'è o quello che sai fare semplicemente vogliono vedere quello che sai fare e se se le tue skill rispecchiano quelli aziendali sei dentro questo è però nessuno non è un esame come si fa all'università perché poi io ho parlato con molta gente riguardo ai colloqui eccetera e tutti quanti avevano quest'ansia questa paura addosso di fare questi colloqui oppure prima di fare un colloquio c'è tutta questa ansia è come se fossero cioè loro la prendono come se fosse un esame ma non è quella roba l'altra questo bisogna capire è una cosa molto easy tranquilla e vai lì spieghi chi sei cosa hai fatto e insomma sei dentro volevo dirti che stai con quest'anno un sacco di cuore grazie grazie mille persone che sono tutte felici di dirti che è un bellissimo sorrino lo dice anche spesso la mia ragazza e hai appena risposto a una persona che ti chiedeva disperatamente se tu fossi single sì cioè no nel senso non sono single quindi sì poi c'è una persona che ha commentato tipo dieci volte chiedendo la stessa cosa quindi ormai dico dai andiamo allora il signore degli anelli avatar ovviamente allora non ho visto il signore degli anelli quindi non posso dire purtroppo non ho visto ho visto solo l'Hobbit sì ma è perché è dei nemici non è dell'Ilem quindi non puoi vederlo la squadra no 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 ho visto però l'Hobbit ho visto anche avatar ovviamente e gli effetti speciali sono realizzati dalla Weta e Digital che adesso è stato acquistato da Unity e Weta Digital è a livello di ILM semplicemente che è meno conosciuta però anche Weta ha fatto tantissimi tantissimi film come appunto il signore degli anelli l'Hobbit eccetera non mi ricordo però insomma ha fatto tantissimi e vabbè poi insomma sì ti escono delle frasi in napoletano parlando con gli inglesi non ho capito ti escono delle frasi in napoletano in dialetto ah ma parlo sempre in italiano io quando no sto scherzando però no quando sono con gli inglesi no perché mi concentro sull'inglese però per più la maggior parte delle volte io cerco di parlare comunque italiano cioè nel senso che parlo inglese però non è che sono bravissimo ecco mi faccio capire ovviamente essendo qui da 5 anni mi faccio capire non è che adesso riesci a lavorarci vai molto bene esatto bravissimo bravissimo però diciamo gli inglesi che parlano inglese è peggio di te sì no no ovvio ci sono persone che parlano ci sarà sempre qualcuno nella vita che sarà peggio o migliore di noi quindi assolutamente sì ma inglesi ah dici no no vabbè sì sì inglesi sono così però quindi quindi dicevamo ah come imparate a modellare in 3D è uscito un'altra volta no è la stessa che riappare ah perché ricompare da tu se vuoi te ne posso te ne posso mettere di nuove sai vai 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 se vuoi non c'è nel senso io stare qui a rispondere cioè figurati no in realtà vorrei dare priorità agli altri quindi levo queste ah ma sempre della stessa persona dicevi altre domande pensavo di altre persone no no in generale in generale ah ok sì sì ci sono domande anche abbastanza banaline tipo questa che comunque possono essere interessanti ah blender blender lo usavo quando avevo quando avevo appena iniziato quando avevo più o meno 14-15 anni realizzai delle cose però in produzione non viene mai usato l'autoblender e l'unica cosa positiva che è gratis è un software potente ci puoi fare delle cose però diciamo io ancora non lo reputo a livelli di Autodesk Maya o comunque Udini specialmente della SideFX io noi usiamo sempre Maya anche se è un software per esempio Maya molto vecchio dell'Autodesk però diciamo si usa perché ormai tutte le pipeline aziendali sono basate su questi programmi quindi immaginate l'ILM con tantissimi anni diciamo alle spalle ricambiare i software ricostruire tutti i tool tutte le cose sarebbe impossibile praticamente quindi Maya si usa in produzione però blender si l'ho usato un pochino sì ci ho fatto qualcosa da dove arriva la tua maglietta questa l'ho comprata nello shop dell'industria light magic interna perché abbiamo degli shop interni degli store c'era lo store perché diciamo ha preso la mente tipo due tre volte l'anno dove puoi comprare diciamo magliette cappelli tazze bicchieri tutto e ti fanno pagare pure queste cose te le danno manco gratis mamma mia com'è l'ambiente di lavoro appunto la domanda è com'è l'ambiente di lavoro l'ambiente di lavoro bisogna stare molto attenti nell'ambiente di lavoro della computagrafica perché in un ambiente molto stressante ci sono moltissimi overtime cioè si lavora il più del dovuto per il semplice fatto che le aziende sanno che noi siamo appassionati di questo lavoro e sanno che noi lo possiamo fare anche dopo le ore di lavoro quindi diciamo con questa tecnica loro si permettono di pushare il lavoro cioè ti danno più lavoro perché loro dicono ah vabbè ma tanto a te ti piace fare grafica 3D adesso che lavori 10 ore al giorno o nei lavori cioè capito o nei lavori 20 cioè nel senso o nei lavori 8 o nei lavori 11 per te non fa differenza anzi ti dovrebbe piacere la cosa e quindi bisogna stare molto attenti nel senso che bisogna farsi rispettare bisogna saper dire i giusti no tra virgolette per esempio io quando ero su Pinocchio la produzione è stata bruttissima non brutta cioè praticamente io dovevo lavorare su Lion King e ogni show ogni film ha una propria produzione interna la produzione è coloro è quel team che si preoccupa di gestire i task quindi di split i task ai vari artisti oppure i deadline eccetera eccetera ok e quello che succedeva è che quello che è successo su Pinocchio è che praticamente io tenivo la produzione di Pinocchio che mi diceva lavora su Pinocchio e la produzione di Lion King che mi diceva lavora su Lion King e io effettivamente dovevo lavorare nessuna delle due produzioni aveva parlato cioè nella stessa azienda nessuna delle due produzioni aveva detto Valentino deve lavorare su Lion King alla fine quindi semplicemente ognuno pensava ai fatti propri e io stavo in mezzo io però che volevo lavorare su Lion King e che comunque ero sicuro che per la fine avrei lavorato su Lion King andavo da Pinocchio e dicevo sentite ragazzi io devo lavorare su Lion King quindi io non ci lavoro su Pinocchio loro mi mandavano un sacco di messaggi ogni giorno dicevano Valentino hai fatto il task hai fatto quello ogni ora quando hai la tua eta cioè la tua deadline quando ci mandi i file e io alcuni giorni le rispondevo proprio perché non mi interessava cioè io sapevo che stavo nel giusto sapevo che dovevo lavorare su Lion King e quello continuavo a fare quindi non alcune volte diciamo è veramente brutto queste situazioni così però dipende dallo show questo quindi dal film su cui capite per esempio Lion King è molto organizzata e comunque dipende anche dall'azienda eduselette e magic sotto questo punto di vista ovviamente potete immaginare che è una meraviglia cioè nel senso queste cose mai nella vita accadrebbero in ILM è solo in in MPC diciamo perché è un'azienda con tantissimi molti più dipendenti dell'ILM in ILM chi va in ILM è perché sostanzialmente se lo merita cioè che è bravo in MPC anche però comunque tendono a prendere più junior per esempio rispetto in ILM in ILM prendono prendono dei junior però sono per esempio quando ero in ILM eravamo forse 4-5 junior della mia età e poi erano tutti quanti un mid o senior tutti senior supervisor lead quindi veramente eravamo pochissimi come junior e in MPC invece è pieno di junior e sono semplicemente è il modo di affrontare gli show i film in maniera diversa allora ILM si basa più sulla bravura di una persona dell'artista e in PC va più sulla quantità quindi più persone prendiamo e meglio insomma ogni azienda ha ragione in maniera diversa e quindi diciamo questo fa sì che gestire 5.000 persone solamente a Londra poi a Bangalore eccetera eccetera ci possono accadere queste incomprensioni ecco quello sicuramente però sì ci sono molti overtime non ho mai fatto overtime perché non voglio diciamo arrivare a quella situazione stressante del lavoro dove lavori 10 ore al giorno 12 ore al giorno cioè per me non esiste solamente il lavoro esistono anche le esperienze di vita stare per esempio con la ragazza uscire fare esperienze eccetera eccetera e molte persone del mio settore sono io le vedo sono molto focalizzate sulla carriera e sul loro lavoro e questo purtroppo è una cosa per me negativa io preferisco guadagnare leggermente un po' di meno che comunque si guadagna bene e non guadagnare per esempio che ne so 220k all'anno che c'è nel senso li posso fare anche io 220k all'anno magari senza essere dipendente e costruire qualcosa di mio in futuro capito e sarà una cosa mia e quindi magari lì voglio anche dedicare 24 ore al giorno però lavorare per qualcun altro e lavorare 24 ore al giorno non mi piace come cosa anche se lavori ai film Disney eccetera eccetera io sono soddisfatto di quello che sto facendo e che ho fatto però insomma ovviamente bisogna anche andare avanti nelle cose non è che posso stare sempre a pensare wow che bello sto facendo quello che voglio eccetera eccetera nel senso altrimenti morirei cioè adesso non posso pure ammazzare tanto i film Disney li ho fatti invece no ci sono sempre nuovi obiettivi nuove cose eccetera eccetera questa è la cosa Linda mi chiede come sono riuscito a contattare Valentin Valentine beh è lui che ha contattato me perché ha visto il video sotto i story sì esatto e ho commentato sotto un commento lui parlava dell'industria letter magic e ho scritto ah che bello sentire parlare dell'azienda diciamo a cui ho lavorato a cui sei lavorato e lui ha scritto wow davvero diciamo facciamo una call una cosa del genere poi siamo passati su Instagram abbiamo organizzato questa live in diretta con voi che bello e tu avevi già visto i miei video o ti hai sì 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 io qualche volta quando lavoro sento a podcast non è che vedo la faccio però insomma a podcast mi metto e sento le storie Disney tutto quello che racconti sui vari film eccetera eccetera quindi sì qualche volta lo faccio e l'ho fatto sì bene bene ora potrò ingigantire appena appena la questione dire lo sapete che alla Disney ascoltano i miei video sulla Disney cercherò il tuo nome nei titoli di coda dei film che usciranno assolutamente è l'unica cosa che purtroppo anche lì c'è un problema cioè nel senso che molte persone fanno anche questo tipo di mestiere per il semplice fatto che poi dicono ah che bello sono importanti compagni i titoli di coda purtroppo a livello di produzione non possono mettere tutti quanti i titoli di coda perché sennò saremmo troppi e non c'entrano i titoli di coda sono strutturati che devono durare in media 10 minuti più o meno un quarto d'ora e per ogni minuto cioè per ogni ogni azienda che lavora quel film ha uno spazio ben determinato in quei 10 minuti un quarto d'ora di titoli di coda del film quindi mettere tutti i nomi purtroppo è impossibile quindi qualche volta è capitato che sono uscito qualche altra volta è capitato che non sono uscito ovviamente uno spera sempre di uscire però alla fine anche se non sono uscito io comunque ho lavorato a quel film lo so lo posso dire in giro non è che assolutamente però fa sempre bello comunque vedere il tuo nome non ti preoccupare assolutamente ne approfitto per specificare per quelli che effettivamente me l'avevano già chiesto tante volte ragazzi se non trovate il nome di una persona un film non significa che non ci abbia lavorato esatto anche perché noi abbiamo la pagina alla Disney non ho mai messo Tim Burton nei titoli di coda perché non mettono tutti nei titoli di coda soprattutto quando Tim Burton faceva tre cagatine in croce alla Disney non ha mai fatto niente di importante finché non l'hanno cacciato quindi sì ma soprattutto noi abbiamo una pagina su Google che potete cercare a MDB tipo se cercate Valentin Procida a MDB lì anche se non sono uscito su qualche titolo di coda lì potete vedere tutto il mio storico e vedete prendete tutti i miei film a cui ho lavorato e vabbè tanto poi faccio anche le storie su Instagram diciamo quindi quando esce un film a cui ho lavorato quindi lo dico sempre e però alla fine diciamo non c'è nulla di male non uscire nei titoli di coda capita non dipende da te non dipende da nessuno dipende da quanto spazio cioè è riservato per quell'azienda e da lì insomma non si riesce a fare tra l'altro è bellissimo perché ok nelle immagini ancora non l'hanno messo però hanno già segnato che ha lavorato la sirenetta a Lost Holly appunto a Pinocchio e ovviamente ancora non c'è il Re Leone eh no ovvio su cui hanno però fatto una domanda cos'è il Paint 3D bene quindi no ragazzi non l'hanno utilizzato non l'hanno utilizzato non ho capito che significa Paint 3D però no forse no Paint 3D ah ma forse voleva dire il programma Paint 3D il software credo di sì ah no Paint 3D non si usa Paint è un po' riduttivo usare Paint su Lion King o comunque su tutti i film non per forza Lion King Sasso Atomico ci raccontava che recentemente c'è stata una testimonianza da parte di alcuni impiegati addetti al UFX dei film delle serie Marvel che lamentavano lo stress provocato dai continui cambi di scadenze della fretta richiesta dalle measure ti trovi in queste critiche in generale cosa ne pensi? sì esistono proprio quello che dicevo prima cioè le aziende cercano sempre di sfruttare il più possibile l'artista pensa che quando eravamo noi in ILM c'erano renti cartelli in cucina dove c'era scritto se voi vedete o notate qualche persona magari che dà segni di squilibrio proprio la parola suicidio c'era scritto che tipo ha sintomi diciamo istinti di suicida fatecelo sapere contattate i char che diciamo gli diamo una mano proprio per questi motivi qua perché queste aziende non ha ILM però diciamo in generale le aziende tendono a sfruttare il più possibile e quindi sì c'è molto stress soprattutto con i clienti Marvel Marvel sì è un cliente assurdo perché ti fa rifare la stessa cosa non 3000 volte ma di più 10.000 quindi è veramente assurdo Disney è un attino più calma sotto questo punto di vista nel senso che il cliente è più tranquillo forse però Marvel lo so che ti ti spendano diciamo così c'era qualcuno che non sto più trovando che aveva chiesto eccolo qua c'è qualche lavoro di cui una volta visto il risultato ti sei pentito? no allora il semplice fatto che io quando ho guardato nel senso che non ho visto molti film a cui ho lavorato al cinema ho visto solamente Suicide Squad no scusa mi ho visto solamente Black Widow al cinema l'unico film a cui ho lavorato è che poi ho visto al cinema è stato solamente Black Widow tutti gli altri non li ho visti perché non mi piacciono i film Marvel semplicemente quindi dato che non sono diciamo di quella categoria non vado al cinema a vederle anche se ci ho lavorato non mi interessa magari li scarico sul computer in HD e mi vedo che ne so il titolo di coda oppure che ne so il mio shot e basta però non mi interessa vedere il film finale signora Disney se ci sta ascoltando lui ovviamente scherza no no è vero è vero purtroppo cioè è così non si scaricano i film ragazzi ah si scaricano i film non si scaricano i film si acquistano si acquistano ovvio si acquistano ovvio per soli 25 euro su Disney Plus dopo che hai già pagato l'abbonamento no ma io tengo su Disney Plus quindi assolutamente Disney Plus ovviamente pagato da Industrial Light & Magic ancora perché ti paga Disney Plus e puoi andare ai parchi di divertimento tutti quanti gratis tipo Parigi fateci su Stadure loro ti danno un pass e tu entri praticamente attraverso un'altra zona non dove entrano tutti come si chiama tutte le persone quelli che lavorano alla Disney vengono chiamati cast member quindi tu non sei un dipendente per la Disney ma fai parte del cast e questo è un modo per dare valore al dipendente quindi vengono chiamati cast member e quando vai al parco divertimenti Disney entri in una sezione per i cast member una porta a parte e da lì salti code entrata eccetera eccetera attraverso questo pass che sarebbe anche il tuo badge cioè tu vai lì e fai il badge e entra bellissimo e poi ti danno anche Disney Plus gratis ovviamente che io quando me ne sono andato da ILM ho detto vabbè ma quelli magari me lo tolgono Disney Plus invece me lo tengo ancora quindi perfetto ma è probabile che infatti non è che loro lo paghino al posto tuo che loro proprio non lo debbano pagare probabilmente ah dici ah giustamente perché se lo Disney se ne preoccupano una volta che hanno generato il codice basta è accesso brava è vero è vero è vero brava sì giusto anche perché a loro non conviene a farsi nemici quelli che non lavorano più con loro no certo adesso mi devi pagare brava eh sì no 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 ovvio ovvio non esiste però è assurda la cosa di parchi perché allora in genere tutte le persone che fanno parte di un gruppo di lavoro hanno un accesso gratuito a una parte delle cose che riguardano quella cosa tu hai lavorato un film se vuoi andarlo a vedere al cinema ti paghi il biglietto come qualsiasi altra persona ed è molto raro che facciano una cosa come questa no no allora Disney sì Disney allora Disney ti dà tutto cioè se tu chiedi una cosa a Disney tu il giorno dopo te la ritrovi sulla scrivania voglio voglio il caffè con la cioccolata solo quello te lo portano capito ti fanno tutto cioè veramente Disney sotto questo punto di vista sa dare valore al dipendente non è come le altre aziende che sfruttano e basta dice no tu devi lavorare e tu devi stare zitto oppure fanno quelle cose finte di inclusion diverse se non mi sono cazzate quelle lì è giusto per far vedere che siamo tutti uniti in azienda ma alla fine secondo me non è quella roba alla fine le cose le vedi diciamo le cose di unione le vedi un pochino come ha fatto ad esempio Disney come tratta Disney dipendente appunto che per esempio già non ti chiama dipendente ma tu sei un cast member per loro quindi fai parte del cast del film e quindi sostanzialmente questo la psicologia di Disney è completamente diversa rispetto a tutte le altre aziende è una cosa se capito quando tu entri in ILM o Disney è un altro mondo cioè tu non stai lavorando per un'azienda cioè non ti senti quella pesantezza e dici sto lavorando per un'azienda faccio il dipendente no è diverso tu ogni giorno che vai là è come se fosse delle esperienze ti godi anche delle esperienze capito è bello ragazzi seguitelo su tutti i social tanto si chiama sempre ovunque Valentin Procida mi trovate su google ho fatto anche altre interviste poi su giornali e youtube quindi potete ancora andare a vedere e poi anche su instagram a chi sei andato su youtube prima di venire da me no ho fatto un'intervista con la con la mia scuola che con cui avevo fatto questo master e loro mi avevano fatto l'intervista perché insomma come diciamo come si dice come promozione capito per quelli che fanno critiche verso il sistema della disney ok siamo d'accordo che lui è stato fortunato perché c'è qualcuno che non è così fortunato ma non dimenticate che c'è distinzione tra chi lavora per la disney chi lavora per la disney animation chi lavora per una cagatina a caso per fare una pubblicità cioè ce n'è di gente che è stata trattata male e magari ne parleremo anche di cose che sono successe recentemente con katmul e lassiter che sono state cazzate dalla disney insomma sono successe cose brutte la disney non è fantastica con tutti ma niente è fantastico ovviamente non esiste la cosa perfetta d'altro canto quando tu fai effettivamente parte per esempio della ilm questo è quello che succede wow wow e perché o meglio magari l'hai fatto ma hai mai insistito alla pixar o perché non hai mai insistito alla pixar allora mandai diciamo una candidatura anche in dreamworks in realtà poco tempo fa allora il fatto è che loro sono in america e loro se devono decidere se prendere un americano o un americano o un europeo loro preferisco preferiscono prendere veramente centomila volte un americano perché gli costa molto di meno in termini di visa visto eccetera eccetera quindi questo è il semplice motivo poi c'è anche il motivo che chi va in pixar è difficile che se ne va cioè io vedo sempre su linkedin che pixar è poco raro che apre posizioni e quindi è molto complicato entrare in pixar però ovviamente ci vorrei andare anche lì è il mio obiettivo tra virgolette però alla fine io sono contento anche così nel senso se io domani mi dovessi fermare e dire no ho finito la carriera e sto a posto nel senso ho fatto quello che volevo fare poi pixar ovviamente mi darebbe ancora di più e sarei ancora più contento però già così diciamo siamo contenti dei risultati assolutamente e dreamworks è la stessa cosa dreamworks è la stessa cosa anche se è un pochino più semplice accedere magari potrò provare ad andarci in futuro ma sicuramente magari proverò cioè io sul fatto di provare non ho mai non ho mai paura cioè uno nella vita si deve sempre buttare non deve mai avere paura di non essere perfetti cioè qua nessuno è perfetto quindi ci si può sempre riuscire ecco wow sì wow e suppongo che il tuo preferito tra i film a cui hai lavorato sia appunto l'ultimo sì ovvio sì gli ultimi tre la Sirianetta Pinocchio e Lion King questi sono i miei tre film di di punta sì ti stanno già prendendo in giro che volevi andare a lavorare alla dreamworks e qui dicono certo per lavorare a spirit 3 a spirit 3 eh sì no vabbè però come nome cioè comunque dreamworks comunque una storia un background quindi insomma io provenendo comunque da Shrek e da quei film lì insomma solo per la storia ci andrei diciamo non per i film che stanno facendo adesso magari oggi però i film che facevano prima erano molto più belli tipo Giù per il tubo quei film lì eh quelli sono bellissimi quindi anche ci sono cresciuto anche sono cresciuto anche con quei film lì non solo Disney Star Wars però sì se ti può consolare Giù per il tubo non è stato fatto negli Stati Uniti ma in Inghilterra ah in Inghilterra ah ma quindi non era Dreamworks no era Dreamworks no ed era Dreamworks ma esatto anche tu non stai lavorando per la Disney però stai lavorando sì stesso concetto la Hardman è quella che si occupava della Disney ah sì sì è giusto è vero sì bravo ci applicai lì ci applicai feci l'application come prime aziende cioè una delle mie prime aziende con cui feci l'application fu proprio questa però ovviamente non mi presero perché ero cioè non sapevo fa ancora anni c'ero junior 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 ecco wow sì a proposito sappiate che no purtroppo non usano solo la plastilina usano tanto computer da sempre come? avvisavo le persone che a Hardman non è che perché le cose le fanno in stop motion allora non c'è computer anzi no no ma il computer sta a tutte le parti cioè non è che figurati siamo in un'epoca in cui è già tanto se l'hanno utilizzata la pellicola figuriamo bravo utilizzando il computer ma però ti adorano in chat ti adorano grazie fa piacere grazie mille ragazzi sono tutti quanti felicissimi una cosa incredibile c'è qualcosa di cui vorresti parlare ma che ti sto interrompendo troppe volte quindi non ci riesci no no io cioè seguo te nel senso fai domande io rispondo molto felicemente allora c'è stato qualche errore che all'inizio continuavi a fare perché eri inesperto così avvisi qualcuno che vuole fare il vostro lavoro che guarda questa cosa in realtà non va fatta dimmi sì allora il consiglio che posso dare è che quando una persona inizia a lavorare diciamo ha molta insicurezza interiore cioè nel senso per esempio di fare quel lavoro perfetto oppure di che ne so di finire all'orario prestabilito eccetera eccetera che ovviamente capito sono cose che si devono fare però diciamo che sotto questo punto di vista sono un po' particolare nel senso che tendo capito a non fregarmene più di tanto nel senso che io faccio quello che loro mi devono fare però non voglio essere legato a troppo o un pochino non lo sono legato però agli orari o comunque per esempio anche alle scadenze eccetera eccetera cioè nel senso bisogna vivere la cosa molto tranquillamente senza pressione io vedo molta gente che sta no devo fare devo fare devo stare con più devi sapere la prima cosa calmo quella è la cosa fondamentale una volta che stai calmo puoi iniziare a lavorare con la tua calma con i tuoi tempi perché se no ho stress io lavoro anche il lavoro per me deve essere un'esperienza non è che io devo stare là perché devo avere la devo avere la diciamo la preoccupazione che quello poi viene cioè si arrabbia no io sto calmo con i miei tempi capito poi vedrai che le persone ti rispetteranno perché sono i tuoi tempi e va bene ovviamente non è che puoi consegnare quella cosa capito dopo un anno cioè è impossibile però per esempio ho capito puoi lavorare quando almeno a Londra è così cioè almeno nelle aziende con cui ho lavorato io avevo degli orari molto flessibili potevo fare quello che volevo io la cosa importante è consegnare il task però vedevo molta gente molte persone che stavano lì over time sempre al computer non mangiavano non facevano pasapranzo tutto questo per dimostrare capito ovviamente diciamo sono parti positive e negative perché se uno diciamo fa vedere ovviamente che si impegna molto e da molto ovviamente ovviamente magari riesce a scalare prima nell'azienda però io penso anche un'altra cosa che alla fine per scalare per scalare in un'azienda o comunque nella vita sono importanti le relazioni e non tanto quanto tu ti ci metti di impegno a fare quella cosa ovviamente anche quello non è che sto dicendo che uno non deve saper fare niente e coltivare solo relazioni però le relazioni sono molto importanti quindi se uno riesce a coltivare le relazioni giuste e a lavorare ovviamente però senza diciamo quello stress riesce riesce nella vita ecco secondo me e piano piano capito con i propri tempi perché diciamo alla fine è un'esperienza tutta un'esperienza anche il lavoro quindi se voglio guadagnare quei soldi al mese io permettimelo di fare capito in maniera un attimino tranquilla con tutto quello stress ovviamente che lo stress un pochino c'è qualche volta soprattutto sotto scadenza non è che adesso io sono la persona più tranquilla del mondo però le scadenze ci sono e c'è lo stress ci sarà sempre però l'importante non abusarne diciamo sapersi regolare ecco con lo stress questo dico e soprattutto che alle prime armi vedo che sta sempre lì giustamente però lo capisco pure perché vuole farsi vedere vuole farsi il nome eccetera eccetera io anche ero così all'inizio poi ho iniziato a capire certe dinamiche di come funzionano le aziende e ho capito diciamo come ottimizzare i tempi ecco e come essere più sereno anche io sotto questo punto di vista e la cosa più importante alla fine è la felicità che noi abbiamo se uno esce da lavoro sta pure arrabbiato è bruttissimo cioè veramente quindi uno deve stare tranquillo felice sereno questo è wow io sono bombardato di idee domande curiosità e al tempo stesso nessuna perché sei stato esaustivissimo grazie anche le domande che fanno ormai sono domande a cui già risposto tipo si mangia bene in inghilterra ragazzi ha detto di no ha decisamente detto di no allora dove sono io in realtà sì perché ci sono comunque molti locali io sono proprio in zona 1 sono vicino al british museum abito e quindi io scendo 5 minuti sono a peccadilli e comunque al centro di Londra ci sono tantissimi ristoranti italiani eccetera eccetera quindi io mangio bene cioè nel senso non è non mangio male devo dire la verità sempre pasta fatta bene la pizza per esempio quando esco è la pizza non è la pizza inglese perché vado giusto nei ristoranti italiani dove la fanno bene costa 13 pound 12 pound però chi se ne frega cioè nel senso basta che mangiamo bene poi una volta a settimana cioè nel senso sono in difficoltà anche io con il cibo italiano però quanto meno qui il cibo locale è decente è almeno male questo è il limbo meno male almeno quello se no io racconto sempre dell'inghilterra quello schifo che è it it ah già si no no it it punto è una catena in cui vendono solamente panini oppure quelle bowl di purè e roba strana no è stata l'unica volta in vita mia in cui ho dato un morso a un panino e non sono riuscito a dare il secondo perché mi saleva troppo vomito mamma mia non è fare un panino sbagliato non è possibile bravo no infatti ti devi impegnare per fare un panino fatto male e comunque altra domanda che fanno è che anche qui è scontata la risposta suppongo ovvero preferisci gli effetti speciali o gli effetti visivi no ovviamente no no non è che è scontato ovviamente io preferisco gli effetti in computer grafica cioè nel senso in cg però ovviamente cioè mi piace anche il mondo degli effetti pratici proprio sul set tipo che ne so mi piacerebbe vedere un'esplosione e capire come si fa come si realizza ecco un'esplosione proprio sul set anche perché lì cioè bisogna stare molto attenti quindi è più ingegneristica la cosa quindi dove piazzare diciamo le varie i vari esplosivi sul set è figo cioè è bello vuol dire quell'esplosione no reale farà molto caldo vicino al fuoco però insomma il computer grafica no però però ha senso ma alla fine sono effetti speciali quindi mi piace anche quella parte lì assolutamente però non ci ho mai lavorato non conosco molto ti posso dire che la grossa differenza è che tu non rischi la vita esatto io non rischio la vita esatto vabbè che poi alla fine chi lo fa sono stuntman quindi tra virgolette loro comunque sono in Deadpool 2 è morta una ragazza per un salto in moto vogliamo aprire la parentesi ai figli della realtà perché quel film ha cambiato la legge nel cinema capite da ah veramente questo non lo sapevo tu sai che cosa è successo? no non sapevo il fatto che sì che non lo sapevo no è da quel momento in poi che hanno inserito tutta una serie di leggi per tutelare le persone che devono giustamente recitare sul set o lavorare sul set quando ci sono effetti speciali ah vedi però sì come dice qualcuno ovviamente anche qui la risposta è ovviamente hai ragione meglio la pizza al portafoglio sì ovvio 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 non della morte sul set rispetto no 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 anche della morte sul set meglio la pizza al portafoglio che dobbiamo proprio scegliere però non credo siano due opzioni sì wow e che dire potremmo aver già finito la live sai ok sto controllando se ci sia qualcosa ma penso che più o meno ci siamo perché ti viene in mente qualcos'altro che ci vuoi dire no onestamente no penso di aver raccontato un pochino diciamo quello che è il nostro mondo e e delle esperienze e aver dato forse qualche consiglio che potrebbe tornare utile a qualcuno non so quindi penso di abbiamo che abbiamo detto abbastanza non so ti direi che ci rivediamo dopo l'uscita del Re Leone bra esatto così andiamo lì a vedere le scene una per una e inizia a parlarci di quello che fa esatto esatto possiamo fare così no se seriamente accetterrei assolutamente io ci sono assicurante prendere proprio una scena e dire ok che è successo con questo petto che cosa hai fatto esatto che funziona per non aspettare il 2025 Pinocchio no magari con Pinocchio non so Sirenetta capito possiamo fare qualcosa assolutamente assolutamente wow ti adoro grazie sei simpaticissimo e effettivamente no non ti è finita la voce non non ti è finita la voce mi sentite così basso ragazzi perché non voglio capire se è un mio problema o no avvisatemi adesso a fine live si scopre che avevi la voce e basta ti immagini ma può essere può essere no speriamo di no speriamo di no no ma penso di no perché altrimenti l'avrebbero detto in chat quindi figurano ok ok vanno bene ha detto che si sente benissimo ho letto il commento ok poi rimedierò all'errore nel tuo nome no ma tranquillo non c'è nessun problema vedi che la gente dice che sono di pop filter per un attimo andato a puttacchi comunque cos'è una sveglia per avvisarci che dobbiamo concludere no era il riavvio del computer per l'aggiornamento anche perché domanda particolare una volta che il film è uscito tu ci puoi mostrare qualcosa del tuo lavoro oppure niente no perfetto fantastico no purtroppo no sarebbe bello magari sì il primo sì dicevamo no no uscirà il secondo che è stato annunciato vabbè e non andiamo oltre che sa no no mi sono dimenticato scusa qual'era la domanda pure io mi sono dimenticato eh mamma però ti dicono che sembri Dario Moccia senza barba sono Dario Moccia senza barba grazie mille quanto sei alto? un metro e sessantotto più o meno no non è Dario Moccia ragazzi è più alto Dario Moccia oh guarda non penso che ci sia qualcosa di più alto di Dario Moccia ah sì non conosco conosco il nome ma non lo so non ti preoccupare è molto alto è tutto lì non ti sto dire quanto sia alto però è seriamente tanto alto ok non è un metro e sessantotto capito? ma neanche uno e ottanta guarda non ti preoccupare ho capito onesto ti ringrazio infinitamente no grazie mille a te mi ha fatto piacere vedo l'ora che magari ci rivedremo e ci risentiremo per altre cose assolutamente mi piace tantissimo che tu praticamente in questa live abbia dovuto tapparti la bocca per tutto il tempo io mi sono tappato la bocca vabbè perché non potevi parlare di un sacco di cose ah sì è vero è vero prima dell'inizio della live sei partito subito a dire no voglio parlare di questo no perché io parlo ho capito poi non mi fermo più ho capito quindi perdonami spero che è la Disney quella che magari non ti perdona perché hai rischiato di fare spoiler bravo a noi quindi vedo che nei commenti la gente è felicissima dice che è stato bellissimo ti chiedono di tornare il prima possibile che ti chiamano Mario Doccia grazie mille grazie a te davvero sei stato fantastico e quindi ti saluto grazie mille concludo la live per tutti voi mortali ciao ciao ragazzi ricordatevi di cercarlo su tutti i social com'è che si chiama ah grazie Valentin Prosci non dimenticatelo ovunque grazie ragazzi ciao a tutti edono ti dà fastidio se ti scriviamo in privato? no 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 potete scrivere ma io già tengo capito dei ragazzi che chiedono consigli quindi scrivete fate quello che volete voi solo il dick pic perfetto ciao ragazzi mi ha fatto piacere ciao a tutti buona serata grazie a tutti grazie a tutti